ehi la ciurma io sono mazzatessa e benvenuti in questa nuova video recensione per il ludonarracom 2021 oggi parliamo di wondersong di greg lobanov wondersong è un po' una di quelle fiabe dolci che possono piacere a tutti dai giovani più anziani perché è una di quelle fiabe con quel forte messaggio di speranza e di positività che fa sempre stare bene come quei film o comunque quei film di animazione che quando li guardi arrivato al finale dici ah sto proprio meglio ho proprio voglia di cambiare di fare delle cose in positivo eccetera eccetera noi impersoneremo questo bardo che ha come suo mezzo insomma per affrontare qualsiasi difficoltà a qualsiasi partecipaggio del canto il canto che viene utilizzato tramite questa ruota colorata insomma che va a definire la tonalità che andremo a utilizzare e ogni tonalità è collegata a un colore che con il mouse viene utilizzato appunto tenendo premuto e orientando probabilmente col controller e direzionando l'analogico e per conto di questo bardo e insieme a una streghetta abbastanza antipatica ma in fondo simpatico uno di quei personaggi burbei ma che in fondo è che non riesce a essere altro se non scontroso nel suo carattere ma che nutre dei sentimenti positivi anche lei andremo a cercare di salvare il mondo in questo tentativo non saremo l'eroe perché incontreremo a un certo punto l'eroe che è un'altra persona non è quello che salverà il mondo noi saremo quello che salva il mondo e non siamo l'eroe della storia ed è una cosa abbastanza particolare ma molto carina che sta molto bene nel contesto insomma nel quale ci muoviamo perché il mondo è troppo corrotto le persone sono troppo discordanti tra di loro insomma c'è una tematica anche molto molto sonora dietro tutto cioè c'è proprio un disaccordo che viene anche percepito come un disaccordo sonoro un rumore di sottofondo dal pianeta terra dall'universo in generale per cui non va più bene bisogna distruggere tutto e ricominciare da capo così hanno deciso l'entità superiore e il nostro compito sarà invece quello di cercare di salvare tutto anche se sembrerà senza speranze anche se sembrerà che falliamo in un sacco di circostanze eccetera eccetera perché una cosa molto bella che mi è piaciuta di come si sviluppa la trama e il gameplay di questo gioco è che nonostante sia mediamente schematico cioè ci sono sei boss più o meno da affrontare e quindi sei aree tematiche rompe sempre questo schema nel senso che non è che noi ci troviamo ogni volta fare a b c boss a b c boss a b c boss cambiando un pochettino le cose tutte le volte in cui noi pensiamo a sì ok adesso ho fatto a quindi farò b a no questa volta b è diverso perché c'è un imprevisto magari c'è l'antagonista che ci rompe le scato piuttosto che proviamo a fare b ma falliamo miseramente quindi bisogna trovare un pieno di riserva oppure la situazione è alterata perché ci sono delle problematiche che non dipendono è una situazione molto più verosimile nonostante si veda la trama insomma schematica dietro questo videogioco il creatore è stato molto abile nel cercare di romperla ogni volta lasciando questo filo di incertezza che fino all'ultimo ci farà dire ok è un fiaba positiva quindi dovrà finire bene in qualche modo però com'è che finisce bene com'è che arriveremo a questo finale positivo e ogni volta appunto ci fa capire che non è che sia una cosa così scontata di arrivare al finale positivo ci sono tanti tentativi tanti fallimenti e tante volte in cui anche il personaggio è un pochettino più scoraggiato dal punto di vista del gameplay inoltre devo dire che tutti i puzzle nonostante siano tutti incentrati su questa tematica del sonoro e del utilizzare questa ruota colorata sono molto diversi e non sono solo dei ritmi in game ma ci sono tanti puzzle strutturati in modo diverso e tante aree insomma da attraversare in modo platforming più o meno ma sempre con delle meccaniche leggermente diverse da area ad area per cui in un punto dovremo far crescere delle piante con il nostro canto in un altro dovremo direzionare delle sorte di foche volanti in un altro invece dovremo difenderci da degli spettri malefici che cercano appunto di attaccarci quando siamo indifesi e via dicendo ero già abbastanza sicuro che avrei trovato un titolo molto positivo perché già varie persone me ne avevano parlato positivamente e in più lo stesso autore di chicory di cui abbiamo provato la demo in live per il ludonarrakon e tra l'altro nella pagina steam sono andato a controllare ha delle recensioni estremamente positive per cui il 96 per cento dei 1096 recensori attuali su steam hanno detto che è un bel gioco ed effettivamente non posso che consigliarlo anch'io è un gioco molto leggero molto carino molto tranquillo che fa stare bene per cui perché non provarlo perché non dargli la possibilità perché non vedere di cosa è capace questo creatore di videogiochi prima magari di dare una possibilità a chicory quando sarà finalmente uscito tra non molto tra l'altro tra l'altro continuo a dire tra l'altro una cosa anche molto interessante che all'interno del gioco ci sono dei collezionabili e i collezionabili sono trovare questo personaggio super mega strano in giro in punti specifici che alcune volte sono suggeriti altre volte invece bisogna andare un po' a caso e ogni volta che troviamo questo personaggio sbloccherà delle danze che possiamo utilizzare mentre ci muoviamo sia il cantare che il danzare possono essere spammati in qualsiasi momento creando anche delle situazioni molto ironiche per cui delle volte andavo a rompere un po' il gioco in cui c'era un tizio che diceva delle cose drammatiche e io mi mettevo a cantare e lui diceva ma no basta cantare non è il momento di cantare adesso siamo preoccupati per questa cosa e c'è nel personaggio che è proprio così naif così positivamente ingenuo che comunque è poi quello che ha ragione insomma che per lui è sempre tutto felice anche se il mondo sta per essere distrutto anche se lui è giù di morale riesce a trovare la possibilità e la forza per sorridere per cantare per muoversi ballando tutto storto insomma detto questo io vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi sul mio canale se non l'aveste già fatto e restare sintonizzati per le prossime recensioni del ludonarrakon e non solo non posso che consigliarvelo appunto wondersong l'ho davvero molto molto apprezzato ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti buona giornata ciao a tutti ciao a tutti